Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio perché ancora non è sera, è terza giornata di festa di scienze e filosofia, un lavoro che sta venendo, diciamo così, che ha trovato la città pronta ma ha visto anche molte persone che vengono da fuori, che attraversano i nostri luoghi, i nostri monumenti, le nostre sale, le nostre strutture, ma soprattutto ci presenta un parterre di circa 150-160 incontri che in quattro giorni sviluppano una serie di riflessioni, approfondimenti e di fattiti dentro i diversi ambiti che quest'anno la festa si è data. Io non la faccio molto lunga, ho l'onore di presentare il professor Carlo Doglioni, il professor Doglioni è il presidente dell'Istituto Nazionale di Geovisia e Vulcanologia, dal 2016, ma soprattutto è anche ordinario di geodinamica alla Salenza di Roma. Qual è, diciamo così, lo scopo principale dell'Ingv? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è uno dei luoghi dove si sviluppano le conoscenze scientifiche che hanno a che fare con il sistema terra e hanno a che fare con il sistema terra nella sua complessità perché le tre funzioni principali dell'Istituto sono soprattutto quelle dell'attività di ricerca, quindi di eseguire una serie di attività di ricerca che si sviluppano in Italia, non solo in Italia ma anche all'estero. C'è poi una cosa importante che ci ha riguardato e che noi conosciamo bene qua da vicino ed è quell'attività di ricerca di tipo istituzionale, di rapporto istituzionale che ha a che fare con il sistema Paese e che, diciamo così, dipende, ha in qualche modo il compito di rispondere a quello che è il Dipartimento della Protezione Civile che fa capo, a cui fanno capo tutte le questioni che hanno a che fare con il sistema e con i piccoli terremoti e poi c'è anche una terza funzione che mi piace ricordare che è quella che si chiama poi in realtà la terza funzione che è quella proprio di divulgazione, di formazione, di approfondimento. Ecco, su questa partita della Geo, il titolo di oggi è proprio Geodinamica e Terremoti qui siamo in una zona dove questa cosa, ahimè purtroppo, l'abbiamo assaggiata diverse volte l'Istituto Nazionale di Geologia e di Geologia è stato sempre presente in questo periodo con l'Umbria e con le Marche soprattutto, quindi passo la parola al Professore perché dentro questa partita dell'osservatorio che in qualche modo con la sismologia ha a che fare e investe nel nostro territorio in realtà c'è una questione scientifica più complessa e più complessiva che il Professore oggi ci chiarirà. Grazie. Grazie per la presentazione, buon pomeriggio a tutti. Io non so chi di voi fosse presente prima nella conferenza del Professore Pocia che per me è stata bellissima e ha introdotto quanto sia importante, come sia stato per Dante, per la letteratura, la storia italiana, la Divina Commedia, di come Dante stesso iniziasse a guardare le stelle e la luna e di come avesse colto l'importanza degli aspetti astronomici. Ora noi spesso preferiamo guardare verso l'alto e ci dimentichiamo che in realtà noi siamo fatti di atomi di mantello, ci dimentichiamo che sotto di noi c'è la ragione anche della possibilità della vita sulla Terra. Anzi, la tettonica delle placche è quella che ha permesso la vita sulla Terra. E il pianeta Terra è l'unico che ha un satellite che ha le dimensioni dello stesso ordine di grandezza nel sistema solare. A parte le distanze dal Sole, a parte le questioni di temperatura, c'è una condizione proprio dinamica che caratterizza la Terra rispetto agli altri pianeti. Ora, non c'è fenomeno sulla Terra, direi nell'universo, a che venga alle cose più elementari, che non sia controllato da dei gradienti. Tutto quello che vedremo è legato a dei gradienti. Gradienti che possono essere di pressione, di temperatura, gradienti elettrochimici o qualsiasi altra cosa. Qui non so se è fermato tutto. Si aspetta. Ah, perché? Oh, perché? Ah, perché? Grazie. Questo però si è sconditato. Forse ce l'abbiamo fatta. Allora, gradienti. Noi dimentichiamo che, sì, giriamo attorno al Sole. Ovviamente non ci rendiamo conto che ci stiamo muovendo a 30 km al secondo attorno al Sole. Ma in realtà il Sole si muove a circa 200 km al secondo per fare il cielo della galassia. Ci arriviamo a 225 milioni di anni. Quindi, sì, l'orbita noi facciamo attorno al Sole. In realtà non è un cerchio, anzi bellissimo. In realtà è qualcosa di elicoidale. Perché noi rincorriamo il Sole che si sta muovendo attorno al centro della galassia. Allora, per chi non è familiare con la geologia alcuni termini elementari che vi chiedo di ricordare, in particolare la litosfera che è fatta dalla crosta terrestre e un po' di mantello. Allora, i primi, diciamo, i primi 100 km. Questa litosfera è rotta in frammenti che sono le placche cosiddette tettoniche, il mantello sottostante, l'uncleo interno esterno, dove le placche si allontanano e si creano. Oceano, dove la litosfera entra nel mantello e invece si creano le zone di subluzione o anche le catene montuose. Allora, i terremoti sono ovviamente il respiro della Terra, qualcosa di naturale, è la vivacità del sistema Terra, se volete anche come dei colpi di tosse, e sono concentrati di dove sono i margini di queste placche. Per cui vedete che chiaramente attorno al Pacifico abbiamo le zone di maggiore sismicità e che delimitano anche un certo numero di placche. Però questi terremoti, che sono oggettivamente anche un problema sociale, in realtà però ci permettono di vedere anche l'interno della Terra, perché è solamente grazie ai terremoti e al vulcanismo, che è una parte però solamente subletriciata, che abbiamo la possibilità, grazie alle onde sismiche, di vedere, di fare una tomografia, una ecografia, se vogliamo, dell'interno della Terra. Senza le onde sismiche noi non sapremmo che cosa c'è all'interno della Terra e qui era bello anche l'intervento di Dante che ipotizza gli inferi all'interno della Terra, mentre ovviamente il Paradiso è verso l'esterno. Ora, grazie alla sismicità, quindi abbiamo la possibilità di vedere come è fatto l'interno della Terra. Vedete che è fatto da dei gusci, questi colori diversi, scendendo ovviamente aumentano la pressione, aumentano quindi i gradienti anche di temperatura, si arriva all'interno della Terra dove la temperatura è intorno ai 6.000 gravi, ma però, sempre grazie alle onde sismiche, noi vediamo che in realtà l'interno della Terra non è così omogenea, ma più si scende verso l'interno della Terra, più si vede che ci sono delle zone in cui le onde sismiche vanno un po' più veloce, un po' più piano, a parità di profondità dalla superficie della Terra, quindi si vedono delle zone rosse dove le onde sismiche vanno più piano, blu dove vanno relativamente più veloce, e quella che viene chiamata tomografia sismica. E ci permette proprio di vedere come è la TAC, come l'interno della Terra ha queste anisotropie, quindi sì la Terra è una cipolla, ma in realtà all'interno di ogni singolo strato ci sono delle forti anisotropie laterali. Per cui abbiamo un'idea varia, più o meno, dell'interno della Terra, con il luscio esterno, la nostra pellicola su cui noi stiamo, a parte questi pochi metri di abitabilità, in realtà, viaggiando al di sopra di questa litosfera e si muove. E un'altra cosa particolare è che noi sappiamo che la vita sulla Terra, in particolare sulla Terra emersa, è iniziata solamente circa 541 milioni di anni fa. Prima c'era vita sotto il livello del mare, c'erano organismi unicellulari, pluricellulari solamente da circa 2 miliardi di anni, ma per quasi 4 miliardi di anni la Terra non ha avuto vita. Cos'è successo in questi 4 miliardi e mezzo di anni? Beh, dalla formazione della Terra tutto il sistema ha cominciato a raffredarsi immediatamente. La Terra è, insomma, l'aggregazione di tanti planetesimi che si sono collisi, e questo bombardamento iniziale ovviamente ha prodotto anche un'alta temperatura, per cui si ipotizza che all'inizio della storia della Terra, proprio quando si è formato il pianeta, fosse estremamente caldo e praticamente fosse quasi una palla fusa. Quindi questa si era raffreddata, però le rocce, nel suo punto esterno, hanno una conducibilità termica bassissima, tanto è vero che la Terra raffredda, ma raffredda molto lentamente, circa 100 gradi il mantello terrestre ogni miliardo di anni. Però quello che è successo è che all'inizio non esisteva il mondo terrestre, il ferro, il materiale più pesante, è sceso verso il nucleo e da quello che sappiamo dai diagrammi di fase del ferro e del miglio, sappiamo che il nucleo interno, quello solido della Terra, non esisteva prima di 2 miliardi e mezzo di anni fa, secondo alcuni ricercatori addirittura non prima di mezzo miliardo di anni. però il nucleo interno si muove rispetto alla parte liquida, sempre di ferro e michele del nucleo esterno, e genera il campo magnetico. Il campo magnetico, quindi con questo oggetto freddo solido che ruota all'interno, questo movimento genera il campo magnetico, il dipolo magnetico che è cresciuto nel tempo e che quindi genera un campo dipolare magnetico che protegge l'atmosfera terrestre. Senza atmosfera terrestre, senza campo magnetico, noi probabilmente non avremo atmosfera terrestre, quindi non ci sarebbe vita sulla Terra. Così come Malte aveva dell'acqua, ha perso il campo magnetico e ha perso anche l'acqua di conseguenza, quindi la sua atmosfera adesso è riduttissima. Quindi abbiamo una storia della Terra che è fatta di ingredienti, per molto tempo è stata un'atmosfera riducente, si è ossidata solamente poco più di due miliardi di anni fa e il nucleo interno solido ha iniziato a formarsi solamente, diciamo, da due miliardi e mezzo d'anni. Ma è solamente nell'ultimo periodo che vedete la vita ha avuto possibilità di sviluppo sulla Terra. Questo grazie alla crescita di questo numero che sta continuando a crescere e che ha la dimensione che è poco più piccola della dimensione della Luna, che vedete questo pannello azzurro. Ora vedete le immagini del Pacifico. Qui la mitosfera Pacifica scende in soluzione sotto nel Mantello, sotto l'Asia, sotto la Nuova Zelanda, le isole Tonga, solo che qui non ci sono montagne stranamente. Però vedete dall'altra parte del Pacifico invece è pieno di montagne, cioè ci sono delle rialzazioni, c'è la cornigliera. Allora, lì dove la mitosfera entra genera dei terremoti. Questi terremoti li vediamo molto bene qui. Sono questi pallini, i colori indicano la profondità. Sotto le mariamme i terremoti arrivano a 670 km di profondità che è l'unità massimo della sismicità della Terra. Però se andiamo dall'altra parte del Pacifico vediamo un comportamento dei terremoti certamente, cioè è molto diverso, cioè vedete che sono molto meno inclinati. Questa differenza di inclinazione tra una soluzione che va verso ovest e una che va verso oeste, la vediamo anche a casa nostra perché sotto gli apennini è quasi, insomma, sui 70 gravi e anche di più di certi punti, mentre sotto la Grecia, vedete, è poco inclinata. Quindi a scala globale si vede che c'è questa simmetria delle zone di soluzione. E cosa vuol dire questo? E' un dariente che forse può essere spiegato da un flusso di movimento che sposta questi piani che entrano nel mantello, li verticalizza da una parte e li sostiene dall'altra. Alle isole Tonga abbiamo la soluzione più veloce del mondo. Da un punto di vista geologico è una velocità supersonica perché viaggia a 24 cm dell'anno che significa 240 km per milioni di anni. Vuol dire veramente che in tempi rapidissimi scende alla base del montello superiore. Però nonostante ci sia questa grande velocità che era più forte, più veloce che conosciamo sulla Terra, non ci sono montanti, ci sono queste isole bellissime, le Tonga, che conosciamo. Se andiamo dall'altra parte del pacifico vedete che la convergenza è addirittura minore, oppure c'è la catenandina, ci sono delle montagne estremamente elevate. Quindi c'è questa simmetria, questo gradiente e possiamo calcolare i volumi che entrano all'interno del mantello terrestre. Vedete che sono quasi tre volte maggiori quelli che scendono verso ovest rispetto a quelli che scendono verso oest. Quindi vuol dire che questo gradiente necessita, per essere compensato, il mantello che si sposta da ovest verso oest. Allora, in Italia noi abbiamo due catene montuose, due zone di soluzione, che sono appunto le albi e gli apennini. E sono due zone di soluzione opposte, una in cui l'Europa scende sotto la placca creatica e quella apenninica in cui la placca creatica scende verso ovest. E vediamo due catene che sono fatte in maniera completamente diversa. Vedete questo colore arancione, sono gli affioramenti di graniti, rocce metamorfiche. Negli apennini sono molto rari questi affioramenti, sono rocce sedimentari. Questi pochi affioramenti che ci sono, sono dei revinti della retia catenatina che continuava verso il sud. Vedete la temperatura, per esempio, di 1300 gradi. Sotto le Alpi la troviamo a 90-100 chilometri. Sotto l'Apennino, nella parte occidentale, la troviamo a 30-40 chilometri. Sono catene fatte in maniera diversa. secondo perché riflettono questa stessa simmetria che abbiamo visto nel Pacifico. Se poi guardassimo non solo l'elevazione topografica attuale, ma il materiale che è stato eroso di sopra delle catene, sopra le Alpi avremo oltre 20-30 chilometri, per non parlare dell'Himalaya che potremmo arrivare anche a 80-90 chilometri di altezza, mentre queste catene hanno un erosione molto più piccolo. Quindi c'è una simmetria, come vedete, un gradiente tra queste due tipologie di soluzioni. Ma poi c'è un altro aspetto che risulta particolarmente importante. Premiamo le sei grandi strutture della Terra, che sono c'è Miliano, Pacifico e Atlantico. Premiamo le tre grandi zone di soluzione, che sono il sistema cosiddetto alpino-imbalaiano, questo, l'Ovest Pacifico e l'Espace. E leghiamo insieme semplicemente le direzioni di questo movimento. Vedete che c'è questa traccia che segue queste direzioni. E queste direzioni noi le possiamo ne costruire indietro nel tempo per almeno 50, ma possono arrivare anche a 100 milioni di anni. E possiamo dire che questo movimento è stabile. Cioè questo platissimo, lungo questo trend, che possiamo definire equatore e deltonico. E queste direzioni nel passato le possiamo studiare grazie al fatto che gli oceani hanno delle anomalie magnetiche simmetriche e delle dorsali, che ci permettono di datare la frusta oceanica, di vedere la velocità con cui si è espansa e soprattutto anche la direzione. e quello che vediamo negli ultimi 50-100 milioni di anni è che la direzione e la velocità con cui si sono aperti gli oceani e formate le catene in montagna è la stessa che noi misuriamo oggi. Cioè oggi, grazie alla rete GPS, vediamo lo stesso flusso, vediamo le stesse velocità che ci davano le anomalie magnetiche negli ultimi 50 milioni di anni. Quindi oggi stiamo vedendo qualcosa che è una chiave di lettura anche del passato. quindi questo equatore e deltonico lo vediamo anche oggi. Adesso c'è un ingrediente in più. Tutti conoscete le isole Hawaii. Le isole Hawaii sono una catena di montagne che ci fa vedere che il vulcano attuale attivi lasciano dietro di sé dei vulcani più vecchi. Cosa è possibile questo? Che c'è una sorgente di mantegno qua sotto che alimenta questi vulcani e che la litosfera scivola. I cristalli vengono allungati lungo questo piano dove scivola la litosfera sovrastante. e questo lo si vede grazie appunto alla sismicità che è polarizzata, viaggia più veloce nella direzione degli assi dei cristalli. Allora se noi misuriamo la velocità delle onde sismiche sotto la litosfera vedete che ha circa 100 km di profondità c'è questa zona zumbina che noi chiamiamo l'oveloce di sismo che vuol dire semplicemente che le onde sismiche rallentano. Perché rallentano? Perché per quello che interpretiamo c'è il mantello terrestre ha una leggera componente fusa, forse 1-2% ma abbastanza per rendere quella parte di mantello meno disposa e quindi permettere alla litosfera sovrastante di scivolare. Questo succede perché a quella profondità la temperatura, questa linea rossa, che noi chiamiamo geoterma supera la temperatura cosiddetta di solidus quindi il mantello a quella profondità fonde e permette alla litosfera sovrastante di scivolare. Solo che se ne misuriamo tutte queste velocità rispetto alle Hawaii vediamo che tutto il guscio esterno della Terra si muove verso ovest non esattamente verso ovest ma in questa direzione modulata con una velocità che può variare tra i 4 e i 10 cm all'anno come media. E questo cosa vuol dire? Che se il guscio esterno si muove relativamente al mantello verso ovest e questo spiegherebbe questa simmetria che avevamo prima questo gradiente di pressione. Quindi noi abbiamo il guscio della Terra che ha fatto di frammenti che viaggiano a velocità diverse però le velocità maggiori sono quelle dove sappiamo che il canale a bassa velocità quello a 300-200 minuti in profondità ha una viscosità minore questo è per esempio la placca tacifica che è la più veloce di tutte le placche al mondo quindi questa va più piano perché è di sopra di una zona dove sotto la litosfera c'è una viscosità maggiore quindi questi gradienti di viscosità determinano dei gradienti di velocità tra le placche. Ora però noi non sappiamo che cosa muove queste placche ancora oggi dobbiamo scoprire qual è il meccanismo che determina la tettonica delle placche e queste sono le forze che conosciamo finora. Allora la più accreditata in letteratura è questa il tiro dello star cioè il fatto che il guscio sterno sia più freddo tiri verso il basso la litosfera. Poi ci sono degli altri nomi che magari confondono un po' il mountain drake significherebbe semplicemente la convenzione nei libri di scuola in genere si vede che le placche si muovono perché c'è la convenzione nel mantello la convenzione c'è però in realtà è molto più complicata di quello che può essere immaginato anche perché tutti i margini delle placche e dorsali oceani che le zone di soluzione si muovono rispetto a mantello e rispetto a tutti gli altri margini. E poi vedete in particolare questo tile drag che qui parleremo anche dopo. quindi abbiamo del materiale che scende, del materiale che esce nelle dorsali quindi c'è convenzione, quindi c'è del materiale che in qualche modo rimescola all'interno del mantello allora questa convenzione è guidata dal basso o guidata dall'alto? Noi abbiamo i dati, l'osservazione e dobbiamo cercare di capire sulla base di questi qual è il modello che ci può spiegare quale sia il meccanismo dell'abbiotone delle lacche. La convenzione si basa sul concetto che c'è un gradiente di temperatura quindi il materiale più caldo, quindi teoricamente più leggero sale verso l'alto, si raffredda e scende. Solo che tutti i modelli di questo genere hanno delle soluzioni molto forti per essere compatibili con quello che conosciamo e soprattutto con la cinematica che osserviamo in superficie che è molto più semplice di quella che può derivare da un sistema di questo tipo. Cosa vediamo sempre grazie ai terremoti? Che quando si studia l'interno della Terra si vede che le onde silpiche hanno sempre queste traiettorie paragoniche in questa forma ondulata. perché? Perché se l'interno della Terra fosse isotopo andrebbero dritte. In realtà più si va verso il basso, più aumentano le caratteristiche di rigidità, cambia la temperatura e quindi cambiano di azione perché, come raccontava prima anche il Genio Coccia, c'è una riflessione delle onde silpiche e quindi questo ci permette di capire anche che l'interno della Terra è stratificato. e più si va verso il basso, più aumenta il ferro per esempio aumenta la densità tantissimo, aumenta la temperatura ma la temperatura non aumenta così tanto perché noi non stiamo su una stella stiamo su un sistema che si sta raffreddando immaginate la pentola dell'acqua calda degli spaghetti se noi spegniamo il fuoco